Dal prossimo 15 novembre al 15 aprile del 2018 è in vigore l'obbligo di catene a bordo pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade statali marchigiane. Lo ricorda l'ANAS, l'obbligo è segnalato sulle strade tramite apposita segnaletica verticale ed ha validità anche al di fuori dei periodi indicati in caso di condizioni meteo avverse. L'ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme che hanno modificato alcune disposizioni del codice della strada. Si tratta infatti di una previsione contenuta nell'articolo 6 che riguarda principalmente le strade extraurbane interessate da specifiche ordinanze da parte del gestore. In caso di inosservanza le forze dell'ordine possono applicare una sanzione pecuniaria che va dagli 85 ai 338 euro. Con condizioni meteo difficili o previsioni avverse anche i sindaci possono con apposita ordinanza imporre la circolazione nelle strade urbane con pneumatici da neve o in alternativa con catene a bordo. In questo caso la sanzione scende da un minimo di 41 euro a un massimo di 169 euro. Va ricordato che in entrambi i casi gli organi di controllo possono intimare all'automobilista di arrestare il veicolo sino all'adozione di uno dei due dispositivi invernali previsti dal codice. Il proappuntamento d'obbligo è per il 15 novembre.